Si tratta di due cose distinte e separate che a volte hanno avuto un punto di contatto ma va sempre ricordato che i terroristi che hanno colpito Parigi non erano migranti ma erano francesi. E aggiungo anche che noi abbiamo rispetto al terrorismo un lavoro di intelligenza e di prevenzione che ha funzionato sebbene con la premessa che voglio ribadire che nessun paese ha rischio zero e che tutto il lavoro nostro di prevenzione serve a diminuire il coefficiente di rischio.